Si inizierà a discutere alle 17 del Policlinico a Caltanissette in Consiglio Comunale, una seduta tematica e chiusa, così da poter votare l'atto di indirizzo preparato da sottoporre all'amministrazione comunale. Un documento che doveva essere pronto già ieri dopo la riunione dei consiglieri capigruppo, ma così non è stato. Spaccature tra maggioranza e opposizione non hanno portato a buon fine la stesura. Tutto rinviato al Consiglio quando si ascolterà la relazione del Sindaco. Solo allora, a quanto pare, si proverà a stilare un atto congiunto. In realtà è opinione comune che il consuntivo che sarà poi proposto all'amministrazione con un atto ufficiale dovrà essere il sunto di quello che nascerà e uscirà fuori dal dibattito tra i consiglieri comunali e dunque le parti politiche. Una traccia che esprime una parte dei desiderata dei cittadini è già il documento stilato a conclusione dell'Assemblea Civica e consegnato nelle mani del Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Magri. Grazie. Grazie.